Sì. Io gli voglio dire una cosa, mi dica lei della televisione, cos'è la televisione? La televisione è un elettrodomestico a forma di parallelepipedo. E che facciamo? Eh no, 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 ha copiato, ha copiato, ha copiato, non mi piace. Ho copiato, ma chi l'ha copiato? Eh, no, 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 no. No, no, la televisione è importante perché quando non c'era la televisione le persone stavano a casa, sedute, e aspettavano che si facessero le 20 e 30, non c'era la televisione, aspettavano, aspettavano le 9, aspettavano, ma non partiva nessun programma, nessuna trasmissione, perché non c'era la televisione, a quel punto andavano a dormire, ora invece c'è la televisione che fa programmi che fanno dormire. La televisione del futuro ci sarà? La televisione del futuro ci sarà tanto e sarà migliore di quella del presente, del passato e del gerundio. Una domanda che non c'entra niente, ma qual vino? E' migliore il vino o la televisione? Il vino.